ciao a tutti siamo tornati nella nostra missione è quella della industria farmaceutica lei le sta mangiando finalmente si mangia qualcosa di sano che io cucinato adesso lei appena usciamo io adesso prendo il piedi di porco di controllare che non ci siano zombie accanto alla al generatore e lo spegni e lo disinstalli nel frattempo io pulisco cioè ti faccio la guardia ok ok qui non c'è nessuno lo puoi spegnere lo puoi spegnere si si ce la posso fare mi deve solo prendere la b ok ok non c'è nessuno ok adesso e poi lo puoi disinstallare scollegare scollegare ok fatto adesso prendiamo le dobbiamo andare all'intusta farmaceutica che è qua sopra la strada quindi io devo girare quello bianco e un attimino arrivo radio 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 si arrivo ok radio accesa perfetto allora dovremmo andare su questa strada qui che c'è l'industria farmaceutica e ovviamente ci passiamo allora ci sei? si ok dimmi quando siamo in zona ci siamo ci siamo siamo arrivati ok se no mi ho messo anche un quadrito ok spegniamo la radio spegni vai tranquillo vai tranquillo poi la scritta cheat sotto sul video ti ricordi di metterlo tu giusto? vai tranquillo si si tutto questo in questo momento ok bravo ok qui non c'è nessuno andiamo su io non ci vedo già più una fava ma non ci sono le luci giustamente sono le 8 e 20 di mattina ok ok c'è nulla qua aspetta 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 aspetta... allora hattappo all'altra potera attento Qua si scende Qua non c'è niente No, allora scendiamo Ci sono zombie Mi senti? Si lo pisti da sopra Dietro questa porta ci sono due zombie Eh, prendiamoli Fagli uscire, fagli uscire Oh Madonna, per ora Il nostro admin ci sta solo facendo cacare sotto Ma niente di che Ma non Non ho capito dove Oh, qui c'è gente Qui c'è gente Spera, spera, spera Perché vuole entrare qui lui? Perché volevano incontrarsi In realtà erano due innamorati Questa è la storia Due innamorati Si Fantastico, il tappino vuoto Protocollo di cura Annotazioni Un, un, un Aspetta, aspetta Piano terra Avvisi Alza la mano Eh, sono Tento gente Sento gente Sento gente Eh, si Allora Fammi leggere Roba Sì, ora mi fermo un attimo E leggo Andiamo No, andiamo su Scusami Dove? Andiamo qualche piano Piano di su Vieni, seguimi Ok Ok Vai, c'è Non c'è niente No No Non c'è un cazzo C'è vuoto Ok Tipo Qua No Non aprì Madonna Non l'ho aperto Non l'ho aperto E chi l'ho aperto Si è aperto da sola Ma vero Te lo giuro Eh, occhio allora Comunque non c'è niente Qui non c'è Bello Non è Sempre da sola Non c'è niente E mi piace Pichissimo Vabbè Non apriamo un cazzo Lascia Che leggiamo il protocollo Ok Facciamo Dentro qua Dentro qua Vieni Tornati Ok No Ok Così Qua Ok Qual è l'angolo E io ti copro Allora Quando abbiamo trovato un modo Per stare tranquilli Allora Annotazioni Annotazioni Fabio culo Per non sbagliare No vabbè No vabbè Mi sento male Va bene Scrivete un po' Protocollo di cura Gli studi procedono bene Però abbiamo finito I reagenti Dobbiamo spostarci A Do Valley Il mio amico Danny Ha sicuramente Tutto ciò che serve Linda E anche lui dice Do Valley Comunque L'annotazione È troppo bella Vabbè No vabbè Vediamo la bandita La foto Che cacchio di gente Che cacchio di gente Che cacchio di gente Che abbiamo intorno Guarda Io Qui c'è una mezza Una pausa Una pausa WC Però Mi capri Il culo Un secondo Vado a pisciare Sì 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 Vai In quel tempo Sono qui Lo metto a fumare Questa Cavolo Comunque Questa base Messa a posto Sarebbe meravigliosa Ragazzi Graffi Non va disinfettato Un attimo Un attimo Che devo Mettiti di seduto Accanto a me Che chiamo Un attimo Daniela Così metto in pausa Il gioco Sì Hai per caso Tanti dolori Sì Un attimo Che te lo metto a terra Grazie Aspetta che te lo metto a terra È nel mobiletto Nel bobbetto Dove c'è il Il lavandino Allora Lele Ci sei? Ci siamo rinfrescati Un pochettino Lele Sì Sì Ci siamo Ci siamo Ok Allora Io direi Di andare giù Possiamo scegliere Di andare a Do Valley Dove ci direbbe Di andare la missione Oppure Di poter Provare A trovare qualcosa Di Oh Qui sto delle casse Qualcosa Che ci può servire Nell'industria Farmaceutica Nell'industria Quelli vicino casa Perché Sembi di cipolla Buono Perché secondo me Potremmo Allora Io sarei Sono aperto a tutte quante Le idee Scegli tu Se andare verso l'industria Poi andiamo a Do Valley Oppure Andiamo a Do Valley Scegli tu Cosa c'è Cosa c'è C'è Acqua 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 Che almeno Mi pulisco Stracci Mi riempio Ok Perfetto Allora io direi Di andare a fare Un po' di pulizia In quella Industria Che è piena Zeppa Di zombie Vicino casa Così anche Se dovesse venire Qualcuno Dei nostri ragazzi Non trova più nessuno Tanto usiamo Usiamo le Molotov Come sempre Ne abbiamo? Io ne ho due Sempre addosso Sono previdente Cosa c'è qui dentro Un foglio di carta Niente Ok Qui siamo Nell'ingresso Di quella Posso scendere Da qua Bene 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 Questa qui Comunque Come base E' veramente Bella Questa messa a posto Sarebbe stata Un Sarebbe Riparti Proprio Si 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 fa Qualunque C'è Veramente Poi Poi Adietro Qua Orca Allora Allora Questo Non avevo capito Pensavo fosse Un piccolo Cieco Per quello Prima ti dicevo Non possiamo Parcheggiare qua Dobbiamo avere Piedi uscita Si Andiamo Andiamo Pegliamo la radio Ma vai che son lento Io son lento Vai però Io son lento Di brutto Devo prendere la rincorsa Accendi la radio Non ti sento più Dovevo accedere al radio Eh si Io ci sono Vai Ok 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 Allora Adesso Ci faranno compagnia Nel lungo viaggio Di ritorno Alla fabbrica Allora Allora S Cassbas Ai Deve Nel lungo sit Oops Oh Di Avc Grazie a tutti 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 Ok Anche qui Ok Allora qui c'è un locale Tipo un ristorantino Grazie a tutti Un coltello da burro Due macchino Due macchine della polizia qui Bello Ecco qui possiamo se sono sane Possiamo rubare le radio Un coltello Un'altra 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 scusami ok cominciamo questo è uno oddio mi si è incastato il mouse il fiore del mouse sotto un tasto mi sembra che non ci sia più nessuno no sembra di no adesso andiamo a vedere in gelateria se c'è qualcosa da mangiare in gelateria la vedo di cifile ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluta Antonio, saluta Antonio, saluta Antonio, saluta Antonio, panico, dolore, vabbè, il dolore poi lo sistemiamo, panico, ma il panico per le sigarette o perché sono agorafonico? Allora, tu fuma perché se sei stomacato sei malato. No, 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 non sono stomacato per niente. Ho panico e dolore. Ma dolore perché sono mezzo... Beh, fuma. Se hai quel panico, fumi. Scusa, ma io ho visto una cosa che spero di essere mi sbagliato. Spero. Perché se è vero quello che ho visto... Se ho visto quello che è vero... È vero quello che ho visto! Ma quella macchina lì è? Quella militare? È un hammer. Quindi vuol dire che... Vuol dire che ci sono... Non è che l'abbiamo sbloccata con... Con qualche missione, sì, sì. Forse sono quei codici che ha messo Massi. Mi viene il dubbio a sto punto. Grande! E allora... Bello, bello, bello. Non ne rinnova cercato, dai. Quindi ogni codice è qualcosa. Ma forse sono le 4 e 10. Andiamo a gira, 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 di più. Andiamo in una zona militare. Dove ce l'abbiamo una zona militare? No, non ce l'abbiamo. Conosce la mappa? No? Qui no, qui no. Qui stiamo facendo tutte quante il giro delle ville. C'è un fuori stradino. Ehm... Peccato perché... Ci sono un po' di zomboli. Sì, sì, sì. Peccato perché... Eh, sì, sì. Eh, cavolo, ci sta. Ebbè, comunque... Quando li troveremo avremo sicuramente da rifare il parco auto a quel punto. Il parco macchine in che al buono. Sai quanto li amo, io, Yammer? Mamma mia, in questo gioco sono spettacolo. Vedi te. Vedi te. Un po' di gente. Oh, a su di qua ci sono delle macchine a sinistra. C'è in giro che si sa mai. Magari. Ah, qui abbiamo i pellegrini che vanno in chiesa. Sì. C'è il gigamart. Ah, no, no, è bello infestato il gigamart, eh. Ehm, appena appena. Ehm, dove mi hai mandato te? Guarda, di qua volevi entrare te? Sì, sì, sì. Ho capito che ti hai detto? Ah, bene. Non è fattibile. E sono entrato da davanti, ma me ne sono trovati dietro dieci. E per quello che ti dicevo. Ma sai, zio, ok che abbiamo fame, ma cerchiamo dall'altra parte. E raccordo il senso. Va bene, va bene, va bene. Il mio Mino sta morendo di fame. Quindi, non lo so. Ehm, forse ho io roba, ho io, 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 io. Mi sa... Sì, no, guarda, 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 guarda. Ehm, lo metto nel... Nel cruscotto. Nel cruscotto. Se me ne lasci giusto un quarto... Dovrebbe essere roba anche un filo seria. Mangio mezzo, ok. Guarda quant'è. Eh, va bene. Hai visto che l'hai mangiato tutto. No, no, un altro. Va bene, va bene, va bene. Tanto. Vai, vai. Non è un problema. No, no, l'ho mangiato qua, l'ho mangiato mezzo. E quindi quello che c'è è tutto tuo. Ok, grande. Grazie. Qui c'è un ristorante qui a sinistra. Ti basta, da te abbastà? Sì, sì. Ti abbastato? Sì. Sì, no, andiamo... Ah, vuoi c'è... Ma cosa vuoi trovare al ristorante, zio, adesso? Ah, c'è uno che vuole entrare. Troppo marcia. C'è roba, c'è gente, c'è fufa anche. Oddio. Ma questo è un ristorante. Ah, qui c'è... Qui c'è un supermercato. Qui dove sono io? Stai morendo tu? Si, due, si, un terzo mi è sparito, mi sa che è uscito. Si l'ho fatto io. Ma comunque vestiti eh, stivali militari. No, stivali militari. Stivali militari. Oh, Lele, 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 pieno zeppo, pieno zeppo. Cibo? Cibo, pieno zeppo. Cibo? Si, si, si. Guai, io devo svuotare la zaino se non c'entra niente. Non c'entra niente, ne? Ti, non c'entra niente. Si, di cat, pinesse. Lasciunce il moro. Chegokè, il lobo è assicurato. Ti, non c'entra niente. Alla scena. Ti, non c'entra niente. Ti, ti, non c'entra niente. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. ok mappa allora siamo fatti questo qui questo qui in questo qui questi due qui poi ci sarebbe dove siamo noi accanto un altro punto che potremmo controllare ah ma c'è una zomba ok questi sono tutti quanti visti perfetto c'erano zombi no a qui potremmo trovare un marzupio per caso ho trovato gli stivali prima che basta quando ci siamo passati poi ci sono delle tasse walkie talkie scatola di chiodi non no 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 special natin carica una miera carica che poi faccio le barricate a vernice rosa tirala su per non sbagliare walkie talkie giocattolo vabbè sono tipo 100 metri martello da demolizio e va vai tutto buono tubo di metallo possiamo andiamo dietro di qua aspetta fermo si esce macchine camion aspetta dietro di qua c'è qualcosa aspetta esce e rientra praticamente sacco di pere ciliegie fragole no vedi sono anche il marcio marcio tutto marcio ok si però potenzialmente si potranno fare anche ciliegie vere no non credo possiamo andare aspetta aspetta ai ho fatto la corsa io nel frattempo grande eh comunque questo questo account sta crescendo parecchio bene eh mori mai bastardo te a proposito di non mori mai eh andiamo a scrivere va quattrocento un mese un mese due giorni e venti ore quattrocentocinquanta zombie uccisi col piedi di porco non male eh quanto un mese eh quattrocento quattrocento io tredici giorni e dieci ore centotrentacinque scusami centoventicinque non mi è ucciso qui quella carcassa di di coso di di hammer non me lo sto togliendo dalla testa sai Eh, anch'io Mi sembra strano che non ne becchiamo però Eh no, vabbè Qui non ne troveremo perché La mappa è già stata vista Eh, vabbè Se sblocchi qualcosa Spawna cazzo, non è che spawna Dobbiamo pensare di togliere Di recuperare questo Questo generatore Aspetta L'ultimo che viene su lo prende Sì Aggiungiamo che torniamo Scrivi sotto in fondo PS L'ultimo che viene su porta generatore Scollega il generatore dalla Sempre che possa Perché vabbè Lo chiediamo Se si può recuperare No, va bene, troveremo Sì, sì, è chiaro però Sì, no, le balle a lasciarlo lì Certo Sì Allora Sì Allora, io prenderei la carriola ne abbiamo ma sai che a me basta avere quattro assi e te ne faccio una ecco qua un e qui un e qui e poi si fanno piccolina piccolina si vedono più non era ben caricato è probabilmente allora ok Ciao Va bene Io direi comunque Di chiudere la puntata Perché tanto Questa qui è una puntata solamente di preparazione Perché alla prossima puntata A questo punto andremo nella fabbrica Libereremo la fabbrica E dopodiché andremo a Do Valley Perché è arrivato il momento di andare a cercare Le nuove prove E' ora E' ora di cambiare E a Do Valley faremo una nuova base Una nuova base Però non la faremo come questa La faremo in una Casa probabilmente Già con una staccionata intorno Per non perderci tanto tempo Sarà una casa Un punto di appoggio Perché Do Valley ci terrà lì Essendo piccola come città Penso ci terrà lì Il tempo di fare Qualche missione Quindi Sarà solo un punto di appoggio Non ci dobbiamo stabilire lì Non ci dobbiamo stabilire lì No infatti Quindi per questo che Dovessimo trovare dei Generatori Ne lasceremo uno attaccato Alla nuova base Che ci permetterà poi appunto Di avere via via In tutto il territorio Dei punti di appoggio Se dovessimo Aver bisogno Bene Io vi saluto E con Lele Ci vediamo Prossimamente Molto prossimamente E con voi Alla prossima puntata Ciao 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 ciao